Bentornati, bentornati a tutti ragazzi dall'Eccelso in questo nuovissimo video. Allora, partiamo dalle cose più importanti di analisi tecnico-tattica di quel che si può dire, cioè il Bari ha dominato completamente il lungo e il largo, Radunovic para un rigore, fa 4-5-6 miracoli clamorosi, Radunovic è qui tra le fila dei tifosi del Cagliari che dopo un girone di ritorno allucinante ha fatto due partite di play-off non perfette con Venezia e Parma all'andata e subito gente che cercava i sostituti a Radunovic, come fai, come fai, e oggi cosa gli dovete fare? Cioè gli dovete fare la statua in Piazza Iene, sostituite quello lì che c'è, mettete Radunovic. Il Cagliari oggi con la partita che ha fatto meritava di perdere, cioè parliamoci molto chiaramente, è stata una partita ridicola, una partita imbarazzante sotto ogni punto di vista, ha tolto i primi 10-15 minuti dove il Bari era proprio in bambola, e voglio dire, meriti al Bari per la partita stata fatta. Allora, noi abbiamo fatto tutto l'impossibile per fare una partita schifosa, una partita indecente, una partita oscena, gli errori, cioè la cosa che io trovo clamorosa è che di quei tre a centrocampo che dal primo minuto non hanno acchiappata mezza, ma Cumbo compreso nel primo tempo soprattutto perché era marcato a uomo da esposito e lì è un'incognita tattica che andremo ad analizzare dopo, ma dopo vi dico io come la proverei a gestire questa cosa, anche perché a Bari bisogna andare a vincere, quindi voglio dire, cioè, questa è la realtà delle cose. La cosa assurda che ho trovato è che di quei tre non ne hai cambiato uno. Non ne hai cambiato uno. Ma com'è possibile che non ne hai cambiato uno? Cioè, era chiaro, evidente, che ci fosse un problema a centrocampo lì. Ma cavolo, c'è Lella che è cresciuto nel Bari, che ci teneva di sicuro a giocare contro il Bari, che è fresco di sicuro perché non ha giocato le scorse partite. Ma perché Lella non poteva andare minimamente bene al posto di De Iola, che oggi stava col girello? È salito solo per fare quei colpi di testa, prendere quella traversa, ma poi nulla cosmico De Iola. Appoggi sbagliati, in fase di impostazione tremendo. Cioè, tremendo, in fase anche di copertura, non ha fatto praticamente nulla. Ma, ma, ripeto, non voglio condannare De Iola. Ci sta che ci sia stanchezza, ci sta che ci sia poca lucidità, ok? Però, allora, allora, ficchiamo dentro magari qualche forza fresca all'inizio, poi De Iola fallo entrare dopo quando serve la forza fresca per essere lucidi in certe situazioni. Poi, ragazzi, dico un'altra cosa, visto che alla fine c'era l'accanimento su Altare, no? Allora, posto che il rigore, insomma, è una... è una bella creazione, buttiamola così. Cioè, una bella creazione dell'attaccante. Siamo sempre qui su sti rigori... su sti rigori... su sti rigori, ecco, fine. Cioè, Foloruncio in caduta, che scivola, allunga la gamba, si stende, fa una... una mossa di ginnastica ritmica barra artistica per arrivare prima di Altare e per prendersi il rinvio di Altare sulla gamba e quindi è fallo. Va bene, ingenuità di Altare che non se lo vede arrivare da dietro, lì probabilmente nessuno glielo chiama e lui non se ne accorge e fa questa... questa ingenuità. chiaramente la sua intenzione era quella di prendere la palla, prende la gamba, perché questo qua scivola sul... adesso entriamo in scivolata in area avversaria, se ci calciano, prendiamoci i rigori. Comunque, se voi volete accanirvi su Altare, tifare per i tre ad Altare di 131 e quant'altro, fatelo, fatelo. Ma non è quello che serve a Cagliari. Non è l'analisi critica verso la quale io vi voglio portare a Cagliari, ok? Cioè, se voi volete accanirvi su Altare, dire che Altare è il mare del Cagliari, dire che Altare è una merda, dire che Altare fa schifo, ditelo, 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 ditelo. Se per voi la partita è stata ottima e se per 95 minuti il Cagliari meritava di vincere 3-4-5-0 e la colpa è stata solo ed esclusivamente di Altare, ditelo, ditelo. Ditelo pure, c'è nel senso, siete liberissimi di fare ciò che vi pare, con profonda disonestà intellettuale, con profonda disonestà intellettuale, con profonda disonestà intellettuale. Poi, cos'altro? Il rigore del primo tempo, vabbè, non c'è perché la tocca prima con la coscia, lì lo vede 3 secondi, come fai a capire che quello è rigore o no? Quello non è rigore, la tocca prima sulla coscia, va poi sul braccio, il braccio è largo, ma sbatte prima sulla coscia, non è rigore, non è rigore, per fortuna lo parla Radunovic. Gli altri... Gli altri non so cosa dirvi, la partita è stata penosa, generalmente, per me i peggiori attratti sono stati De Iola, Azzi, i difensori centrali non hanno fatto una buona partita, sempre in sofferenza, anche lì, cerchiamo di capire, Macumbron, secondo tempo meglio da quando è uscito Esposito, che ha fatto una partita clamorosa, Esposito sulla tre quarti, è veramente una bella puntatina, Zappa, secondo tempo, bene, primo, meno, Mancosu, rotto, ma anche qui, l'importante inizio anno era prendere Mancosu, che poi mette quella bella palla per la padula, però giochi con un giocatore in meno, ragazzi, giochi con un giocatore in meno, Kurfalidis non è entrato, Lella non è entrato, Ale, le forze fresche, ma andiamole via, cioè, c'è poco da dire, c'è poco da dire, io, questa squadra non so cosa aspettarmi, una partita sembra figa al Manchester City, un'altra sembra a squadra alla parrocchia, cioè, oggi parliamoci chiaramente, molto sinceramente, prima di analizzare certi episodi, prima di passare all'aspetto arbitrali, prima di comunque tutte le rosicate del caso, su atteggiamenti sbagliati che ha il Bari in campo, di inciviltà più totale, che ci sono, ma ragazzi, cioè, voglio dire, giocatori che, uno che segna il 95esimo, e va sotto la curva barra tribuna, ad esultare zittendo, tutti che zittiscono, che fanno gesti, insultano, cioè, ma quale pensate che sia la reazione dei tifosi del Cagliari, che si vedono arrivare un gol al 95esimo? Cioè, questa, poi chiaramente sono episodi che domani analizzeremo col Braina, è chiaro, questi episodi di purtroppo di, di cattivo, ma, ma ripeto, io non sono per la sportività, lo sapete, ma questa provocazione, stile argentina, fine a se stessa, solo per attaccare Rissa, per creare questo odio sportivo enorme, perché è quello che è stato creato oggi, cioè, il Cagliari, che col Bari non aveva nulla contro, oggi, dopo questa scena vergognosa, cioè, io a Bari, mi aspetto, che se al 95esimo stiamo ancora pareggiando, o se stiamo perdendo e quindi la Serie A è andata, io mi aspetto di tutto, mi aspetto di tutto, perché, ragazzi, si creano delle condizioni di odio sportive, di odio sportivo, assolutamente negative, per il mondo del calcio, per, per, per qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa, rifanno vedere qua le, le immagini, questa esultanza veramente fuori luogo, questa esultanza folle, pazza, guarda questi che vanno a zittire, a fare gesti, ad esultare sotto i tifosi del Cagliari, veramente una brutta scena, veramente una brutta scena, cioè, ci sono modi e modi, ci sono modi e modi, ci sono modi e modi, tolto questo, cioè, voglio dire, questo è il contorno a una partitaccia tremenda, cioè, parliamoci chiaro, questo in civiltà, che già sapevamo, cioè, voglio dire, d'altronde, è una squadra che è stata multata per la partita contro il Suttirol, per le robe che sono state fatte, meno male che non l'ho vista, voglio dire, c'è, un motivo ci sarà, no? Quindi, poi, parlando di giocato, è giusto, anzi, c'è andata sin bene che oggi ci sia stato un pareggio, tanto non è che cambi più di tà, cioè, cambi più di tà, sì, certo, se la perdete devi vincere almeno 2-0, devi andare lì e vincere di almeno un gol sopra, boh, preghiamo, preghiamo, ragazzi, io non voglio essere negativo, sicuramente va studiata, faremo tatticismi, va studiata la posizione di Macumbo, con Esposito lì alle spalle, che è veramente forte, e bisogna valutare eventualmente un Viola, magari in posizione di regia, con Macumbo mezzala, per avere due pronti alla regia, e fare poi una mezzala veloce, ecco io farei giocare a Lella a Bari, secondo me sarà gasatissimo, facciamo giocare l'Ella a Bari, fiducia l'Ella a Bari, e vi dico, in tre quarti, serve corsa, perché lì a centrocampo abbiamo patito tantissimo anche oggi, serve corsa, mettiamo Kurfalidis, fine, un bacio, ciao a tutti.